A dieci anni dal terremoto uno dei problemi più grandi rimane quello della ricostruzione delle scuole. A parte i lavori iniziati per la ricostruzione della Maria Eleventre, le uniche due scuole ricostruite sono scuole private. Eppure i fondi ci sono, ci sono 43 milioni di euro. Fondi stanziate dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il Cipe, e dal Commissario alla Ricostruzione nel periodo che va, tra il 2011 e il 2017. Sui banchi di scuola oggi ci sono oltre 11 mila studenti, di questi 10 mila frequentano istituti pubblici. Quasi 5 mila bambini e ragazzi sono ancora nei MUSP, 32 dislocati sul territorio i moduli a uso scolastico provvisori. Gli appalti pubblici del resto hanno procedure più complesse rispetto a quelle private, ma è inaccettabile che a dieci anni i ragazzi siano ancora nei MUSP, che tra l'altro, dopo dieci anni, presentano anche diverse probleme e criticità. Il programma di assetto della ricostruzione dell'edilizia scolastica, approvato dall'ex sindaco Massimo Cialente, è stato sostituito da un nuovo piano che è stato approvato dall'aggiunta del primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha ripreso in mano la questione. Per completare la messa in sicurezza di tutta l'edilizia scolastica, naturalmente se non ci saranno intoppi burocratici, ci vorranno altri 4 anni. I MUSP erano nati per ospitare i bambini e i ragazzi per 5 anni, oggi ne sono passati 10 e le condizioni sono inevitabilmente cambiate. I MUSP. I MUSP.